Buongiorno e bentornati a economiatalia.com. Prima di passare all'argomento molto interessante di oggi, vi preghiamo di lasciare un like o di iscrivervi al canale. Scusate la tosse. Oggi parleremo di un argomento molto interessante, cioè della possibilità che abbiamo di comprare azioni o effendiane, cioè una delle economie, anzi forse l'unica economia che sta crescendo in modo considerevole. Le difficoltà che abbiamo avuto in Europa, che ha anche l'America, che ha anche la Cina, sembrano toccare l'India. L'India in questi ultimi anni è cresciuta veramente tanto e sta continuando a crescere. Quindi quali sono le azioni che è più conveniente comprare? Allora, innanzitutto abbiamo una prima tranche di azioni che poi naturalmente vi lasceremo il link sotto al video in modo che potrete andare a leggere i due articoli, tre articoli che abbiamo dedicato all'India su azioni e ETF indiani in modo da rendervi conto perché troverete i grafici, troverete altri dati finanziari in modo che possiate decidere con la vostra testa quale sia l'investimento migliore da fare. Allora, partiamo subito con Tata, che praticamente è l'unica azienda che noi italiani conosciamo, perlomeno noi maschietti a cui ci facciano le macchine. Tata Consultancy Service è un punto di riferimento al settore IT, a serie in India, fornisce soluzioni trasformative in vari settori, con un portafoglio diversificato che spazia dal settore bancario, assicurativo, manifatturiero, all'età e altro ancora. Esplora la TCS come potenziale più dettagolare per il tuo portafoglio di investimenti, supportato dalla sua solita storia di performance e del suo allineamento con il dinamico mercato IT. Vi diciamo subito che le azioni, noi abbiamo uno storico di due anni praticamente, due anni fa stavano a 3.000 euro, oggi stanno a 4.200. altri dati finanziari importanti di Tata, sono il cambiamento che ha fatto in queste ultime 52 settimane, è un aumento del 17,74%, il rapporto prezzo-gotazione e valore contabile 14,79%, un'utile operazione, il prezzo sta a 4.000 rupie e un'utile operazione 130 rupie, considerate che più o meno un euro sono 100 rupie grosso modo. il target price per Tata è di 3.165, quello più basso e 4.000 quello più alto, ricordiamo che il titolo sta a 4.100. Un'altra azione che è cresciuta veramente tanto negli ultimi diciamo sei mesi è Infosys Ltd, è leader globale della consulenza dell'outsourcing tecnologico, cioè offre servizi digitali di prossima generazione, riconosciuto come uno dei migliori titoli penny stock a lungo termine. Anche questo nel settore T. Considerate che il prezzo era di a maggio, intorno a maggio sono sui 16 rupie, non c'era praticamente pochissimi centesimi di euro. Stava a 17, 16, 17, adesso sta a 23. Infosys ha guadagnato nelle ultime 52 settimane 34,93% che facciamo. Continuiamo con altre azioni, queste ne abbiamo scelte quattro che hanno dei buoni dividendi. Sono comunque in crescita, ma hanno i dividendi più alti rispetto alle altre. Allora, me ne cito due. Una è RITAS, scritto RITAS Limited, una società indiana di ingegneria consulenza del settore pubblico. Mostra prospettive promettenti per il 2025, nonostante una certa volatilità a breve termine. Il titolo è stato influenzato dalle fluttazioni del mercato del 2024 con un calo significativo. Gli analisti prevedono che il prezzo delle azioni RITAS potrebbe aumentare oltre il 100% raggiungendo obiettivi che qui sono specificati nel link, nell'articolo che vi lascio al link. Un'altra, anzi facciamo altre due, è Goal India e Goal India Oil. Goal India, come si può capire, è un'azienda che si basa sul carbone e l'altra sul petrolio, proprio perché l'India è in espansione, le sue industrie hanno sempre più bisogno di energia, anche il carbone e il petrolio, anche le aziende legate al petrolio aumentano i loro fatturati. Coal India, le prospettive per il 2025 sembrano positive in base a diversi fattori. La società ha mostrato una solita performance finanziaria con una crescita costante di fatturate e profitti negli ultimi anni. L'Indian Oil, si chiama Indian Oil Corporation, il simbolo internazionale I o C, nel 2025 sembrano positive, anche se non prive di rischi. Gli analisti prevedono che il titolo potrebbe aumentare in modo significativo, con obiettivi di prezzo che vanno da 236 a 243. Oggi, vediamo, sta a 163 rupie. Parliamo di rupie. Un ultimo accenno al fatto che comunque sia dei dividendi. I dividendi sono utili per azione. La RITES che vale 313 rupie dà 8 rupie. L'India, che vale 492, ne dà 61. Questo è molto significativo. E l'Indian Oil Corporation che sta a 163 e ne dà 22. Niente, con questo abbiamo finito il nostro escursus sull'India, sul mercato indiano che vi ricordo e sottolineo che è comunque molto interessante e vi consiglio di stare lì dietro perché al di là di queste azioni ce ne sono anche altre molto molto interessanti e che potrebbero fare il caso vostro. Noi abbiamo scelto anche un ETF sull'India che troverete sempre in fondo al video con il link spiegato per bene e che secondo noi ha migliori soluzioni perché è un mercato molto lontano da noi, molto difficile da conoscere. A meno che non abbiate molto tempo per studiarvelo. Un bel ETF che comprende tutte le azioni maggiori dell'India è la cosa più semplice da comprare per un investitore che voglia guardare a questo paese in via di sviluppo, anzi che ormai è bello che è sviluppato. Vi lasciamo e ci sentiamo la prossima volta.